Forza, prigioniero di questi gol di goli a Roma Guarda, 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 guarda Tira solito, scidenta No Non tiriamo mai Che f*** Che segnala Sei gru Che segnala Controfallo, trilla Sempre dei risultati Dai, dai, dai Ehi, come tiriamo che entra questa? Ciiiiiii Stiamo combinando comunque Non vedevo un Uh, meacci Meacci, meacci 75 Pessoa, vai Poi No, merda Chi ha fatto questo? Questo che... Quello con la... Che è un'area circondata a quattro difensori Più facile faccio Oh Uh Attenendo un poco di giornata Yeah 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 Grazie.